bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi brutte notizie nel video news di oggi lo abbiamo visto tutti ieri pomeriggio purtroppo c'è stato un nuovo posticipo della live buonanotte della stagione numero 3 no io ci sono sono sempre in live su twitch proprio in questo momento di fortnite ne parleremo tanto ne parleremo un sacco e parleremo anche però di alcuni aggiornamenti che sono stati fatti direttamente nelle ore sempre di ieri nell'ultima patch prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video news e ora ragazzi che cavolo è successo facciamo un attimo il punto della situazione cerchiamo di capire un attimino cosa sta capitando prima immagine di oggi il tweet ufficiale delle ore 16 e 30 se non ricordo male di ieri pomeriggio quindi la nuova data di lancio della stagione 3 è l'11 giugno una settimana in più di quello che si era pensato se andiamo però nella pagina delle notizie ufficiali di fortnite ci sono anche delle righe scritte in italiano e le leggiamo insieme che dice fortnite capitolo 2 stagione 3 arriva questo 11 giugno salve a tutti per preparare ogni aspetto del capitolo 2 stagione 3 al meglio abbiamo deciso di prolungare di una settimana la season 2 il nuovo giorno di lancio della season 3 sarà giovedì 11 giugno inoltre non perderti il dispositivo uno spettacolo in diretta con una rappresentazione unica sabato 6 giugno alle 20 ora italiana posti illimitati arriva 30 minuti in anticipo per assicurarti il tuo quindi innanzitutto questa prima parte di notizie ci informa come già detto del posticipo della season numero 3 e ci dicono anche che sarà il 6 giugno la data dell'evento del doomsday che loro chiamano il dispositivo quindi per la prima volta sappiamo il nome in italiano di quello che sarà l'evento e continuano dicendo prima della nuova season ricordati di completare le tue sfide pass battaglia e sbloccare le tue scelte per l'aspetto di brutus nitroglicerina miascolo sky mida e maya c'è ancora tempo per completare le due sfide aggiunte di recente dominio locale e assalto all'agenzia per le ultime notizie assicurate di seguire i nostri canali social grazie per la pazienza allora grazie in realtà bisognerebbe dire perché non è proprio una bella cosa interviene anche il donato così proprio come si dovesse salvare una palla al limite della linea che dice su prodo e humblyford ve la traduco direttamente in italiano dice sono comunque molto onorato e sono molto contento di annunciarvi che nonostante tutto noi abbiamo più di mille persone che lavorano al progetto fortnite e che in questi mesi hanno sviluppato da casa ognuno la propria porzione di lavoro per garantire tutto quello che sarà il futuro e la nuova season quindi c'è da dire che il donato come sempre imparziale non posso avercela col donato non ce la faccio è come se fosse mio fratello il donato non posso io lo guardo cambia gli stati scrive le cose mi piace tanto quindi in realtà torrando serio lui ha ragione tanta gente ha lavorato da casa non deve essere stato assolutamente semplice non essere fisicamente nello stesso posto e se ci sono dei problemi avere appunto dei tempi di attesa però però non mi puoi mettere un countdown ok e poi quindi mi crei l'hype mi fai prendere degli impegni per il discorso dell'evento mi fai salire quella roba lì che dici porcaccia porcaccia e poi mandi tutto alle ortiche esposti di una settimana secondo me e non solo secondo me ci potrebbe essere un evento correlato tra lo spostamento della season è un altro grandissimo evento che sta per capitare nella vita vera ovvero sia il rinvio proprio a sabato questo sabato della navicella che verrà lanciata appunto dallo space x in orbita un evento ovviamente storico perché ci saranno due astronauti lanciati verso la stazione spaziale il tutto preparato costruito gestito e progettato da un'associazione privata ok quindi tutta la compagnia di elon musk e esse e soci questo potrebbe voler dire che ci sta da una parte ma non ci sta nel senso o scegli di guardare l'evento di fortnite o scegli di guardare l'evento del lancio sono entrambe due cose che possono sembrare distanti anni luce una dall'altra ma in realtà accomunano milioni di persone se pensiamo se pensiamo che nel concerto di travis scott ci sono stati 27,7 milioni di persone uniche quindi singole persone diverse a guardare il concerto figuratevi un evento che chiude la season e figuratevi addirittura il cambio season quindi si parla di numeri notevoli milioni di persone guarderebbero anche ovviamente il lancio perché io sinceramente sono davvero interessato a vedere entrambi quindi potrebbe essere anche questa una delle motivazioni appunto per il delay della season insomma ragazzi è un peccato ma dobbiamo farci andare bene le cose e andiamo avanti perché ovviamente c'è uno spiraglio di luce per molti di voi perché allungando di una settimana la season beh c'è una possibilità in più di ottenere o di avvicinarsi al massimo alla golden pili quindi la banana d'oro abbiamo un piccolo una piccola brochure qua che vi fa un attimo vedere un pochettino delle informazioni su quante ore barra partite dovreste giocare per riuscire a raggiungere il livello 350 che vi posso garantire tra l'altro ieri abbiamo preso il 400 è follia follia nel senso io lo ribadisco se non avesse avuto voi come community ad aiutarmi durante la cavalcata dal livello 170 al 350 non ce l'avremmo non ce l'avrei mai mai fatta quindi un ringraziamento lo rinnovo per voi e andiamo avanti perché prima di salutarvi ci sono delle cose che sono state modificate ieri dopo l'annuncio del posticipo della season la prima ragazzi è proprio questa quindi siamo ovviamente nella stanza di mida e come vedete anzi vi faccio proprio vedere uno spezzone video è stato aggiunto un nuovo stadio al doomsday device quindi non lo sapevamo non era stato ovviamente programmato non era inserito nei file di gioco ma c'è e come notate ci sono appunto delle scariche elettriche che dalla parte alta colpiscono oppure viceversa dal nucleo della della sfera vanno verso l'alto ed è appunto il quarto stadio ufficiale del doomsday questo probabilmente è semplicemente un effetto scenico è un po' per non lo so buttare condimento nel risotto adesso passami il termine che non so neanche cosa voglia dire però nel senso c'è quella roba lì in più perché se no non c'è nel senso era brutto da vedere un'altra settimana quella roba lì che faceva tutte le faceva tutti gli effetti e quindi hanno voluto aggiungere e per chiudere ragazzi invece hanno trovato delle modifiche con l'ultima patch la 12.61 alla digola la hand cannon chiamata ovviamente in lingua inglese la nostra tanto amata deagle che quasi sicuramente potrebbe rivedere la luce nella stagione numero 3 una pistola che è sempre piaciuta tantissimo una pistola che è veramente devastante se la sai usare bene roba che faceva ora non ricordo bene quanto danno ma mostruoso e quindi ragazzi un buon prospetto per avere delle nuove armi cosa che secondo me servirebbe adesso avere nella prossima season e che comunque non fa mai male insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche oggi il video news mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali noi ci vediamo al prossimo video news a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao